Buongiorno, sono Maria Teresa Giaveri, mi occupo di letterature comparate. Nel mio percorso accademico di docente di letterature comparate spesso ho seguito quello che i francesi chiamano la critique genetica, ho seguito dei temi legati alla genesi di un'opera d'arte, come a partire dai primi scartafacci, diceva Benedetto Croce, dai primi appunti nasce un testo poetico, un romanzo. Alcuni anni fa, casualmente, in rapporto a un certo documento, ho cominciato a interessarmi non di come nascesse un testo, ma come era nata e si era sviluppata un'idea, un'idea bizzarra, contraria a tutto quello che la medicina dell'epoca pensava e che però si rivelò non soltanto salutare, ma che ci portò a quello che sarà il grande cambiamento della medicina moderna. Così ho seguito quest'idea anche perché veniva propagandata, ostacolata o discussa da una serie di personaggi assolutamente affascinanti che sono stati i grandi protagonisti del XVIII secolo. Volterri, Fratelli Verri, Beccaria, era un mondo assolutamente stregato in cui sono entrata seguendo di testo in testo questa idea e poi ne è nato un libro che è appunto Lady Montague e il Dragomanno, Viaggio avventuroso alle origini dei vaccini, un viaggio all'interno di tutto questo XVIII secolo che porterà alla fine a questo salto di qualità che sarà la trasformazione di questa pratica strana, l'inoculazione, in vaccinazione. Quando ho finito il libro ho trovato che purtroppo per noi tutti era diventato un argomento di grande attualità, poiché stavamo vivendo quello che nel Settecento ogni dieci anni capitava in un paese o nell'altro, e cioè arrivava un'epidemia di vaiolo, qui stiamo vivendo una pandemia e stiamo vivendo quello che vivevano i miei personaggi di due secoli fa, sperando, confidando come soluzione in quello che è stato lo sviluppo di una pratica bizzarra che una signora inglese impara in Oriente e porta in Europa. E così questo è diventato un viaggio, un viaggio che comincia nel 1716 quando Lady Montague, insieme con il marito che è stato nominato ambasciatore all'epoca si diceva a Costantinopoli, presso la sublime porta, partono da Londra portando con sé il figlio, la vaglia, il cappellano, il medico di famiglia, un certo numero di servitori, insomma partono. Ci mettono un anno e mezzo circa da arrivare a Costantinopoli e si avviano verso l'Oriente. Durante il viaggio questa donna intelligente, sottilmente anticonformista, che si era costruita una vera e propria educazione come se fosse un maschio. Lei aveva imparato il francese e l'italiano, che erano le lingue dell'ideganza, le lingue dei salotti, ma poi si era studiata nella biblioteca paterna anche il greco e il latino e la storia e la filosofia, che erano invece le aree di sapere che venivano riservate ai maschi, il cui futuro era probabilmente nel mondo politico. Questa famiglia, i Wozzi Montego, quindi partono nel 1716 e Lady Montego durante il viaggio comincia a scrivere lettere alle sorelle, alle amiche, agli intellettuali londinesi, che nel frattempo lei aveva un po' affascinato con la sua intelligenza e il suo charme, ben che fosse butterata dal vaiolo aveva perso anche le ciglia. Era sempre una donna bella e affascinante, quindi aveva molti ammiratori anche fra gli intellettuali di Londra. Lei comincia a scrivere lettere, lettere dall'Olanda prospera, lettere dalla Germania a volte in buone condizioni, altri staterelli miserabili in cui, lei dice, la gente essenzialmente mendica e anche gli aristocratici non possono trarre molte ricchezze da questo popolo miserabile. Lettere da una Vienna abituata ai piaceri della carne, della tavola, degli spettacoli, persino la domenica si va all'opera, oppure da terre desolate dalle guerre come l'Ungheria, terre come la Bohemia, terre un tempo prospere e adesso o per guerre di confine o per guerre religiose ridotte alla pura sopravvivenza. Viaggia, scrive, arriva finalmente nell'impero turco. Quello che viaggia, facciamo vedere la seconda immagine, quello che viaggia, come dicevo, è una famiglia, una famiglia anticonvenzionale anche perché si erano sposati per amore. Lei e Lord Wortley si erano scelti, lui era il fratello della sua migliore amica, l'aveva incoraggiata a studiare, si erano scelti e nonostante il parere del padre di Lady Mary, che aveva già pensato a un certo tipo di matrimonio, si erano sposati, avevano fatto una fuitina mal combinata perché non si erano trovati, ma insomma lei si era rapita da sola e poi si erano sposati e ormai facevano una famigliola felice. Arrivano alle confini dell'impero austro-ungarico e qui al posto della truppa austriaca, vediamo l'altra foto, abbiamo una serie di, diciamo così, delle truppe dell'impero turco e addirittura una scorta di giannizzeri. Li vediamo in una processione in cui portano gli emblemi del loro corpo, questi un tempo terrorizzanti corpi di fanti tipici del mondo turco, ragazzini cristiani presi alle famiglie, islamizzati e trasformati in soldati e molto spesso anche in personaggi importanti della politica del sovrano turco. Con la scorta di giannizzeri penetrano nell'impero turco e qui abbiamo anche qui delle descrizioni estremamente interessanti perché questo mondo che affascinava tanto l'Occidente, si parla di turcherie, si sognano vestiti atmosfere, si leggono le mille una notte, si sognano vestiti atmosfere turche, e questo mondo era poco conosciuto e lei come donna, e per di più come donna che incomincia subito a imparare l'arabo e il turco, poteva penetrare nelle varie, nei mondi femminili, questi mondi proibiti. Un quadro molto interessante è quello di Ingres, le bain turque, che viene addirittura ispirato da una delle lettere di Lady Mary. Le lettere saranno pubblicate postume dopo la sua morte, sfuggiranno al controllo della terribile figlia, che invece è convenzionale, quanto la mamma era libera e anticonvenzionale, che distrugge tutto quello su cui mette le mani. E invece queste lettere vengono pubblicate e Ingres, quasi un secolo dopo, descrive questo bagno turco che Lady Mary ha cominciato a frequentare, lei a Sofia comincia a frequentare questi mondi, questo è quello di Sofia, poi va nel bagno turco a Edirne, a Adrianopoli e poi a Costantinopoli, e qui addirittura Ingres si immagina di vedere Lady Mary, la descrive con un ritratto completamente di fantasia, con una coroncina, vedete, sulla destra, dietro le forme arrovesciate e i segni svettanti della figura in primo piano, c'è una figura con una coroncina in testa. È così che Ingres si immagina Lady Mary che sta curiosando nel bagno turco. Descrive quindi il mondo turco con un sguardo assolutamente privo di pregiudizi e lo descrive dall'interno, frequentando i bagni e le case nobiliari, discutendo con il personale dell'ambasciata, imparando anche il turco. Ed è, non è ancora arrivato a Costantinopoli, è ancora a Adrianopoli, come si diceva all'epoca, cioè l'attuale Edirne, e il primo aprile 1717, una data importante nella storia della medicina, lei scrive una lettera, fa partire un pacco di lettere. Una di queste lettere all'amica Sara è una lettera in cui descrive questa pratica bizzarra, che è l'inoculazione del vaiolo. L'inoculazione del vaiolo, lei dice, è una strana abitudine che qui permette di non aver paura del vaiolo. Il vaiolo era endemico ed epidemico, distruggeva ogni decina d'anni. Se andava bene un decimo della popolazione, dove arrivava, se andava male anche magari un settimo, un sesto. Mentre qui, dice, ci sono dei mondi in cui non hanno paura. Perché? Perché c'è una pratica strana. Nelle campagne, una vecchietta, quando non fa tanto caldo in autunno o in primavera, gira i villaggi, vede quali ragazzini hanno preso il vaiolo, raduna tutti gli altri ragazzini e con un mezzo guscio di noce riempito di pus del ragazzino che ha il vaiolo fa un graffio sulla spalla degli altri, mette una punta di spillo di pus, poi ci mette, non esistevano chiaramente le bende, eccetera, mette mezzo guerriglio di noce per coprire questo piccolo graffio. Il ragazzino sta una decina di giorni in casa, perché in quel momento è contagioso, ci prende magari una febbricola e dopo una decina di giorni esce, ricomincia a giocare nel villaggio e non prenderà mai il vaiolo. Lei scrive all'amica Sara, nel termini esatti, in cui una decina d'anni prima, il suo primo dragomanno, quello che lei aveva trovato arrivando in Turchia, tra il personale dell'ambasciata, Emanuel Timoni, il suo primo dragomanno aveva descritto la pratica in un testo, ovviamente in latino, che aveva mandato alla Royal Society. Il primo dragomanno è appunto Emanuel Timoni. Qui abbiamo una delle immagini, credo l'unica che esista di lui, ed è in rapporto al giorno della sua laurea, quando gli fanno feste, gli scrivono poemi, gli inventano pièce teatrali, opere liriche, insomma, ha una laurea strepitosa, è un figlio di dragomanni e di medici di antica tradizione. I dragomanni, cioè il traduttore e gli interpreti ufficiali, erano il legame fra il mondo orientale e il mondo occidentale. Appena arrivava un ambasciatore, gli spiegavano come andavano le cose, erano i traduttori ufficiali ed anche un po' i consiglieri. Di solito i dragomanni sono di famiglie o veneziane o genovesi, cioè erano le antiche repubbliche marinare, quelle che durante tutto il periodo bizantino e poi il periodo turco avevano mantenuto i rapporti fra oriente e occidente. Emanuel Timoni è di una famiglia genovese che da generazioni si è trapiantata a Chio e poi a Costantinopoli nel quartiere genovese di Pera e al tempo stesso medico e dragomanno. Si è laureato con feste strepitose che hanno festeggiato la sua laurea a Padova, come si laureava tutto il mondo occidentale a partire dalla caduta di Costantinopoli. Si è laureato a Padova e ha avuto anche una laurea a Novi Scouser dalla Royal Society, è stato in Inghilterra e nel 1713 ha mandato una relazione su questo sistema dicendo che questo è importante, ci può preservare dal vaiolo, non è una cura per il vaiolo. Le cure si dividevano in metodo riscaldante e metodo rinfrescante, cioè il disgraziato che si era preso il vaiolo e che aveva sette probabilità su dieci di salvarsi, ma magari di salvarsi in cattive condizioni o fisiche o anche mentali, poteva essere messo a fare, diciamo così, in camere riscaldate a fare bagni bollenti oppure in camere aperte al fresco secondo le teorie dei due gruppi di medici che si contendevano le cure del vaiolo. No, dice lui, c'è un metodo addirittura per prevenirlo. Questo metodo è racconta delle donne, della tessaglia, è anche molto preciso, che fanno questo tipo di operazione. La Royal Society si informa, dice vediamo se è una cosa seria, e si informa tramite i suoi consoli. Il console inglese di Smirne è amico del console veneziano, Jacopo Pilarino, e Jacopo Pilarino dice certo che funziona quel metodo, sono io che l'ho spiegato a Timoni, perché nel 1701, di fronte alla grande epidemia di vaiola a Costantinopoli, il decano della famiglia greca, una ricchissima famiglia, nobilissima, ricchissima, i carri o folli, mi fa chiamare, mi dice io ho paura per i miei ragazzi, in tessaglia pare che ci sia questo metodo strano, però funziona, perché non si ammala nessuno di vaiolo. Per favore, vada a vedere, investighi, se è un metodo sicuro, non pericoloso, lo applichiamo. Pilarino, che è un personaggio, io mi sono trovata con dei personaggi meravigliosi, alcuni saranno noti da Volterra a Genin, ma altri sono scomparsi nelle nebbie del tempo e sono altrettanto affascinanti. Pilarino è un inquieto, si è laureato in legge, poi è andato un po' in giro, poi si è rilaureato in medicina, ci ha messo dieci anni a laurearsi in medicina, intanto praticava, come si faceva all'epoca, è diventato primo medico di una serie di personaggi importantissimi, persino di Pietro il Grande, poi è ritornato a Venezia, in quel momento è corso a Lasmir, ne dice sì sì, l'ho spiegato io a Timoni, che ho conosciuto appunto, anche lui si è laureato a Padova, come me, e gli ho spiegato come funziona questo sistema, anzi, già che c'è, Pilarino scrive pure un libretto che pubblica a Venezia su questo sistema. La Royal Society, rassicurata, fa tradurre il testo, che è ovviamente in latino, di Timoni, lo fa tradurre in inglese, lo pubblica sulla rivista importantissima che stava girando il mondo, che stava portando le novità scientifiche in tutto il mondo, le Philosophical Transaction, la rivista importantissima della Royal Society, e non se ne accorge nessuno. Intanto, a Costantinopoli, siamo nel 1718, Mary Wortley Montague ha fatto inoculare la parola proprio di Timoni, questo tipo di graffio, lui la chiama inoculare, il figlio, lo troviamo qui con dei pantaloncini alla turca, ha fatto inoculare il figlio e poi con il marito sta ritornando a Londra perché appunto il competitor del marito è riuscito a fare un giochino e a prenderne il posto. Nel frattempo, nel 1718, Pilarino e Timoni muoiono. Pilarino era malato da tempo, era anche più anziano, era raggiunto i 60 anni, età considerevole nel 1700. Timoni muore in modo molto bizzarro, muore in un incidente, in un suicidio, dice l'unico storico turco che se ne occupa, in un accampamento turco per suicidio, per depressione. Ma la cosa strana è che nessuno parlerà più di Timoni. Il suicidio non è ben visto, ma forse non è morto proprio per un suicidio, ma qualche cosa che potrebbe rendere delicati i rapporti diplomatici. Non ne parlerà più nessuno. La notizia compare dell'inoculazione, scompare. Ma Mary Walter Montelux se ne ricorda. Qualche anno dopo, a Londra, nel 1721, arriva, naturalmente, ogni tanto arrivava la grande epidemia di Vaiolo. E lei fa inoculare la figlia, convincendo il medico scozzese, riottosissimo, a praticare questo tipo di operazione che praticavano le vecchie, che praticava Pilarino, le vecchie greche, che praticava Pilarino, convince la principessa del Galles, che è una principessa tedesca molto colta, molto appassionata di scienze, di lei dirà Voltaire quando sarà, quando salirà al trono, gli inglesi sono fortunati, hanno un filosofo sul trono, è la regina. La principessa del Galles si appassiona, dice, così posso salvare i miei figli. Riesce a convincere il re che dopo qualche sperimentazione fatta su alcuni condannati a morte, che così accettano di fare la cavia e non saranno portati al capestro, sperimentazioni che vanno benissimo, a questo punto l'aristocrazia comincia a fare inoculare i propri figli e da Londra vuoi attraverso le relazioni dei medici, vuoi attraverso le lettere private di ambasciatori e nobili che scrivono al resto della loro famiglia, gira per tutta Europa e per i possedimenti inglesi in America, gira questa notizia, che c'è questo metodo e che questo metodo funziona. Dal 1721 fino alla fine del secolo questo sarà un dibattito che passerà di corte in corte, di salotto in salotto, di accademia in accademia e sarà fra le cose anche molto spesso più divertenti perché per esempio Voltaire è spiritosissimo di tutto il Settecento e abbiamo dei casi stranissimi per esempio a Boston dove nel 1721 arriva anche lì portata con la solita nave arriva un'epidemia di vaiolo il grande fautore dell'inoculazione è un personaggio oscurantista e raccapricciante come Cotton Mother cioè proprio lui l'inquisitore delle streghe di Salem personaggio superstizioso e oscurantista però interessatissimo dalla scienza io ho letto tutte le sue lettere è tremendo lui si prende per l'inviato di Dio sulla terra se un bambino sta male dice fatelo digiunare pregare perché ha peccato però anche molto attento alle novità e convince un medico a praticare l'inoculazione il medico poveretto quasi ci lascia la pelle perché mentre a Londra la discussione avviene da pulpito in salotto ma essenzialmente da giornale a giornale e Mary Wartley fonderà un giornale con un pseudonimo di nascosto ma comunque un giornale in difesa delle donne che hanno il coraggio di parlare di scienza ma come una donna che parla di medicina siamo matti e in difesa del metodo che se provoca come a volte è successo qualche caso grave c'è stato anche un morto nell'aristocrazia tutti hanno smesso di fare inoculazione lei dice perché i medici interessati solo alla loro alla loro parcella introducono variazioni per far vedere che loro fanno in modo personale variazioni che poi sono pericolosissime e che possono invece provocare la morte quindi dico a Londra il dibattito è essenzialmente di rivista in giornale invece a Boston gli americani sparano quindi cercano di linciare il povero medico che pratica l'inoculazione o di fargli saltare in aria la casa a Parigi la notizia arrivano e diventa la moda quando il principe d'Orléans fa inoculare i figli a quel punto è la grande moda dell'inoculazione e quindi ci si veste a pois perché il vaiolo è ricordato attraverso queste le macchie dei pois il medico che ha praticato l'inoculazione diventa un personaggio alla moda invitato in tutti i salotti e poi dopo ci si dimentica dieci anni dopo non la pratica più nessuno anzi il dottor Gatti questo medico italiano che si ostina a difendere l'inoculazione viene sfidato a duello tanto che lui si stanca e tornerà in Italia dove diventerà anche il medico dei sovrani di Napoli ecco nei vari paesi abbiamo posizioni diverse dibattiti diversi tra i più interessanti appunto quelli della Francia perché partecipano d'Alembert e Voltaire e Bernoulli i grandi matematici calcolano il rischio conviene o non conviene inocularsi c'è un piccolo rischio perché soprattutto se tu ti fai praticare l'inoculazione quando non stai bene poi la cosa possono andare in modo poco 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 allegro però se invece lo fai nel modo giusto non c'è pericolo non c'è pericolo davvero dicono invece gli oppositori voi sapete del caso a tal dei tali e questo dibattito dura per tutto il Settecento con dei personaggi assolutamente affascinanti a Milano sono i fratelli Verri a Napoli e Genovesi nelle varie corti la discussione che c'è alla corte di Vienna è assolutamente affascinante perché io continuo a ripetere affascinante ma è vero insomma ci sono questi personaggi meravigliosi e queste scelte a volte veramente estremamente interessanti Maria Teresa d'Austria dice l'hanno sperimentato in Italia funziona? lo farò applicare nel mio impero no dicono i consiglieri molti sono contrari ci sarebbero disordini il disordine è negativo dice Maria Teresa d'Austria evitiamolo non lo imporrò ma lo proporrò facendo sapere che ho fatto inoculare i miei figli le femmine dicono i consiglieri tanto le donne si sa sono tante tutte queste figlie sono tante poi sono sacrificabili facilmente no no dice Maria Teresa tutti i miei figli a partire dalle rete al trono ci sono quindi delle scelte diverse in Inghilterra si fanno dei veri e propri stabilimenti per inoculare tutti i bambini in altri paesi in Francia invece la corte francese è molto dubitosa e ci vorrà quasi alla fine del Settecento nel Settantaquattro se ben ricordo la morte orribile per Vaiolo di Luigi Quindicesimo perché da Luigi Sedicesimo tutta la famiglia si faccia subito inoculare ed è una storia che attraversa tutto quanto il Settecento come dicevo fra accademi e palazzi reali anche Mary Montague viene a vedere cosa sta succedendo nel mondo perché vent'anni dopo innamorata di un giovane bell'italiano lei ha più di 40 anni lui ne ha 26 è Francesco Algarotti ed è uno che piace molto piace a tutti piace così tanto che piace a Mary Montague che lascia l'Inghilterra d'accordo col marito viene prima lo cerca un po' tra la Francia e la Svizzera poi viene a stabilirsi in Italia purtroppo piace anche a un grande amico di famiglia dei Mary Wortley che ha invece gusti un po' diversi e piacerà moltissimo e diventerà l'amante ufficiale di Federico di Prussia Mary viene in Italia cerca di ritrovare Algarotti lui è un po' qua e un po' là risponde con gentilezza con fascino però ormai in modo preciso alla fine lei capisce che non è cos allora resta in Italia si stabilirà nella Repubblica di Venezia vivrà fino all'ultimo anno della sua vita nella Repubblica Venezia tornerà a Londra solo per morire perché la cara Italia le piace molto il grande amore vabbè è finito però e a Venezia ecco qui abbiamo Venezia vivrà fra questi palazzi meravigliosi come per esempio Palazzo Grimani questo è Palazzo Grimani adesso non so che cosa fosse all'epoca lei infatti quando va a Londra dice ma i palazzi veneziani sono un'altra cosa e vivrà nella cara Italia e vedrà nel frattempo perché siamo nella seconda metà del secolo che l'idea di cui lei si è fatta ambasciatrice ha preso corpo è diventata importante viene discussa viene applicata alla fine del secolo se non ricordiamo che era il 1701 quando Pilarino era stato invitato a vedere sperimentare studiare questo metodo dal decano della famiglia Cario Folli proprio alla fine del secolo siamo l'ultimo anno del secolo e uno dei medici che tengono all'inoculazione che è un inoculatore Jenner come altri sperimenta per vedere di rendere nulla quella piccola percentuale di rischio che c'è ancora sperimenterà non cambiando come fa per esempio Gatti o come fanno altri il modo di applicare il pus del vaiolo ma cambiando il tipo di pus del vaiolo prenderà non quello umano ma quello dei bovini vaccino appunto e con il vaccino il rischio sarà annullato e con il nuovo secolo con gli eserciti di Napoleone il vaccino il nuovo modo che ci ha liberato dal vaiolo trionferà in tutta Europa ed è finito di rendere